Negozi e supermercati restano chiusi per Pasqua e per Pasquetta in Toscana. Uniche eccezioni, farmacie, parafarmacie ed edicole. Lo ha disposto con un'ordinanza il presidente della regione Enrico Rossi. I sindaci mi hanno richiesto di fare un'ordinanza per regolare le attività per Pasqua e per Pasquetta, anche allo scopo che non ci siano difformità sul territorio regionale, che potrebbero indurre movimenti, problemi e assembramenti che, come tutti ormai abbiamo imparato a sapere, sono pericolosi per la diffusione del virus. L'ordinanza regionale consente comunque di fare la spesa prenotandola online o per telefono e facendosi consegnare genere alimentari o beni di prima necessità direttamente a domicilio. I commercianti che non rispetteranno l'ordinanza potranno essere sanzionati con la sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La regione toscana è incaricato di vigilare sul rispetto delle chiusure le polizie municipali e tutte le altre forze di polizia.